Conseguenze dell'abuso e della negligenza sui minori Abusi sui minori, panoramica. Qualsiasi danno o maltrattamento intenzionale a un bambino di età inferiore ai 18 anni è considerato abuso di minori. L'abuso sui minori assume molte forme, che spesso si verificano contemporaneamente. Abuso fisico. L'abuso fisico di minori si verifica quando un bambino viene ferito fisicamente o messo a rischio di danno da parte di un'altra persona. Abuso sessuale. L'abuso sessuale di minori è qualsiasi attività sessuale con un bambino, come accarezzarlo, contatto genitale orale, rapporto sessuale, sfruttamento o esposizione a materiale pedopornografico. Abuso emotivo. Abuso emotivo sui minori significa ferire l'autostima o il benessere emotivo di un bambino. Include aggressioni verbali ed emotive, come sminuire o rimproverare continuamente un bambino, nonché isolare, ignorare o rifiutare un bambino. Abuso medico. L'abuso medico sui minori si verifica quando qualcuno fornisce false informazioni sulla malattia di un bambino che richiede cure mediche, mettendo il bambino a rischio di lesioni e cure mediche non necessarie. L'abbandono del bambino è la mancata fornitura di cibo, riparo, affetto, supervisione, istruzione o cure dentistiche o mediche adeguate. In alcuni casi, l'abuso sui minori viene commesso da qualcuno che il bambino conosce e di cui si fida, come U. Conseguenze a lungo termine dell'abuso e della negligenza sui minori. A parte le lesioni fisiche immediate che i bambini possono subire a causa del maltrattamento, le reazioni di un bambino all'abuso o all'abbandono possono avere impatti per tutta la vita e persino intergenerazionali. Il maltrattamento infantile può essere collegato a conseguenze fisiche, psicologiche e comportamentali successive, nonché a costi per la società nel suo insieme. Queste conseguenze possono essere indipendenti l'una dall'altra, ma possono anche essere correlate. Ad esempio, l'abuso o l'abbandono possono arrestare lo sviluppo fisico del cervello del bambino e portare a problemi psicologici, come una bassa autostima, che potrebbero in seguito portare a comportamenti ad alto rischio, come l'uso di sostanze. I risultati per ogni bambino possono variare ampiamente e sono influenzati da una combinazione di fattori, tra cui L'età e lo stato di sviluppo del bambino al momento del maltrattamento Il tipo, la frequenza, la durata e la gravità del maltrattamento E il rapporto tra il bambino e l'autore del reato Inoltre, i bambini che subiscono maltrattamenti sono spesso colpiti da altre esperienze avverse. Per esempio Uso di sostanze parentali Povertà E o violenza domestica Sintomi di abuso sui minori Un bambino che viene maltrattato può sentirsi in colpa, vergognarsi o confuso Potrebbe aver paura di parlare a qualcuno dell'abuso, specialmente se l'abusante è un genitore, un parente, una persona autorevole o un amico di famiglia Ecco perché è fondamentale prestare attenzione alle bandiere rosse, come ad esempio Cambiamenti nel comportamento, come aggressività, rabbia, ostilità o iperattività, o cambiamenti nel rendimento scolastico Riluttanza a lasciare le attività scolastiche, come se non volesse tornare a casa Depressione, ansia o paure insolite o un'improvvisa perdita di fiducia in se stessi Ritiro da amici o attività abituali Un'apparente mancanza di controllo Autolesionismo o tentativi di suicidio Frequenti assenze da scuola Comportamento ribelle o provocatorio Tentativi di fuga Segni e sintomi specifici dipendono dal tipo di abuso e possono variare Tieni presente che i segnali di pericolo sono proprio questo, segnali di pericolo La presenza di segnali di pericolo non significa necessariamente che un bambino sia stato maltrattato Segni e sintomi di abuso fisico possono includere Lesioni inspiegabili, come lividi, fratture o ustioni Lesioni che non corrispondono alla spiegazione data Segni e sintomi di abuso sessuale possono includere Comportamento sessuale o conoscenza inappropriata per l'età del bambino Gravidanza o infezione a trasmissione sessuale Sangue nelle mutande del bambino Dichiarazioni di aver subito abusi sessuali Contatto sessuale inappropriato con altri bambini Segni e sintomi specifici dipendono dal tipo di abuso e possono variare Tieni presente che i segnali di pericolo sono proprio questo, segnali di pericolo La presenza di segnali di pericolo non significa necessariamente che un bambino sia stato maltrattato Segni e sintomi di abuso emotivo possono includere Evitare determinate situazioni, come rifiutarsi di andare a scuola o prendere l'autobus Una diminuzione del rendimento scolastico o una perdita di interesse per la scuola Perdita delle capacità di sviluppo precedentemente acquisite Ritiro sociale o perdita di interesse o entusiasmo Sviluppo emotivo ritardato o inappropriato Perdita di fiducia in se stessi o autostima Cerca disperatamente affetto Depressione Segni e sintomi di negligenza possono includere Scarsa crescita o aumento di peso o sovrappeso Scarsa igiene Mancanza di vestiti o forniture per soddisfare i bisogni fisici Prendere cibo o denaro senza permesso Nascondere il cibo per dopo Scarso record di frequenza scolastica Mancanza di cure adeguate per medici, dentisti o Problemi psicologici o mancanza di cure di follow-up necessarie Comportamento di un abusatore di minori A volte, il comportamento o il comportamento di un abusatore di minori invia segnali di allarme sugli abusi sui minori I segnali di pericolo includono un autore di abusi sui minori che Si aspetta che il bambino gli fornisca attenzione e cura e sembra geloso del fatto che gli altri ricevano l'attenzione del bambino Sminuisce o rimprovera costantemente il bambino E lo descrive con termini negativi, come senza valore o malvagio Offre spiegazioni contrastanti o non convincenti Le ferite di un bambino o nessuna spiegazione Sembra incapace di riconoscere lo stress fisico o emotivo nel bambino Richiede un livello inappropriato di prestazioni fisiche o accademiche Limita fortemente il contatto del bambino con gli altri Mostra poca preoccupazione per il bambino Incolpa il bambino per i problemi Usa una dura disciplina fisica Gli esperti di salute dei bambini condannano l'uso della violenza in qualsiasi forma Ma alcune persone usano ancora le punizioni corporali, come le sculacciate, come un modo per disciplinare un bambino Qualsiasi punizione corporale può lasciare cicatrici emotive I comportamenti che causano dolore, lesioni fisiche o traumi emotivi, anche se eseguiti in nome della disciplina Potrebbero essere abusi sui minori Conseguenze sulla salute fisica degli abusi sui minori Alcuni effetti fisici a lungo termine di abuso o abbandono possono verificarsi immediatamente Come danni cerebrali causati da un trauma cranico Ma altri possono richiedere mesi o anni prima che emergano o siano rilevabili Esiste un legame diretto tra abuso fisico e salute fisica Ma è anche importante riconoscere che qualsiasi tipo di trattamento scorretto può causare conseguenze fisiche a lungo termine Il maltrattamento infantile è stato collegato a un rischio maggiore per un'ampia gamma di problemi di salute a lungo termine e barra o futuri Inclusi ma non limitati a i seguenti Diabete Malattie polmonari Malnutrizione Problemi di vista Tictus Limitazioni funzionali o Di attività Infarto Artrite Problemi alla schiena Pressione alta Danno cerebrale e emicrania Bronchite cronica Cancro Malattie intestinali Enfesema Broncopneumopatia Cronica ostruttiva Sindrome da stanchezza cronica Conseguenze sulla salute fisica Continua Anche l'abuso e l'abbandono dei bambini sono stati associati a determinate regioni del cervello che non si formano, funzionano o crescono correttamente Ad esempio, una storia di maltrattamento può essere correlata a un volume ridotto delle dimensioni complessive del cervello e può influenzare le dimensioni e o il funzionamento delle seguenti regioni cerebrali Il corpo calloso Il corpo calloso che è responsabile della comunicazione del cervello sinistro, del cervello destro e di altri processi come l'eccitazione, le emozioni e le capacità cognitive superiori L'amigdala che è la chiave per elaborare le emozioni L'ippocampo che è fondamentale per l'apprendimento e la memoria Il cervelletto che aiuta a coordinare il comportamento motorio e il funzionamento esecutivo La corteccia orbitofrontale che è responsabile del processo decisionale basato sul rinforzo e della regolazione delle emozioni Le conseguenze psicologiche dell'abuso sui minori possono includere Diminuzione del funzionamento esecutivo e delle capacità cognitive Scarsa salute mentale ed emotiva Attaccamento e difficoltà sociali Stress post-traumatico Le conseguenze comportamentali degli abusi sui minori possono includere Delinquenza giovanile che porta alla criminalità degli adulti Futura perpetrazione di maltrattamenti Consumo di alcol e altre droghe Pratiche sessuali malsane Conseguenze sociali degli abusi sui minori Sebbene le conseguenze fisiche, psicologiche e comportamentali dell'abuso e dell'abbandono sui minori gravano pesantemente sulle spalle dei bambini che lo subiscono, l'impatto del maltrattamento non finisce qui La società paga un prezzo per gli abusi sui minori e l'abbandono sia nei costi diretti per i ricoveri, nei pagamenti per l'affidamento e nei costi indiretti per l'assistenza a lungo termine, nella perdita di produttività a scuola, nei costi dei sistemi di giustizia Penale e minorie Uno studio condotto da ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention, il CDC, ha sviluppato stime utilizzando i dati dell'anno 2015 per il costo del maltrattamento infantile negli Stati Uniti Per gli incidenti mortali di maltrattamento sui minori, i ricercatori hanno stimato un costo, per tutta la vita, di 830 100.000 dollari per bambino e per gli incidenti mortali di maltrattamento sui minori, hanno stimato un costo per tutta la vita, di 16,6 milioni di dollari per bambino Ha stimato, che il costo annuale del maltrattamento non fatale negli Stati Uniti è di, 428 miliardi di dollari, in base al numero di casi comprovati, di maltrattamento non fatale, o, di 2 trilioni di dollari in base, al numero di casi di maltrattamento, non fatale indagati I costi in questo studio includono, sia i costi tangibili per il benessere dei bambini, l'assistenza sanitaria, la giustizia minorile e i costi immateriali per il dolore, la sofferenza e afflizione Prevenzione degli abusi sui minori Puoi adottare misure importanti per proteggere un bambino dallo sfruttamento e dagli abusi sui minori, nonché prevenire gli abusi sui minori nel tuo quartiere, o, nella tua comunità L'obiettivo è quello di fornire relazioni sicure, stabili e educative per i bambini Per esempio Insegna a un bambino come stare al sicuro online Offri a un bambino amore e attenzione Conosci i caregiver di un bambino Non rispondere con rabbia Pensa alla supervisione Comunicare Se temi di poter abusare del figlio di qualcun altro o di tuo figlio, chiedi aiuto immediatamente Il numero di telefono della Child Help National Child Abuse Hotline è 1-800-4224-453 Il numero di telefono di Prevent Child Abuse America è 1-800-244-5373 Oppure, a seconda della situazione, potresti essere in grado di contattare Il tuo Dipartimento di Polizia Locale Dipartimento dei Servizi Sociali Fornitore di Assistenza Sanitaria Possono essere in grado di offrire un rinvio a un corso di educazione dei genitori, consulenza o un gruppo di supporto per chiunque sia coinvolto per aiutare ad apprendere modi appropriati per affrontare la situazione Se stai abusando di alcol o droghe, chiedi al tuo medico le opzioni di trattamento Se sei stato maltrattato da bambino, chiedi consiglio per assicurarti di non continuare il ciclo di abusi o insegnare quei comportamenti distruttivi al figlio di qualcun altro o al tuo stesso bambino Ricorda, l'abuso sui minori è prevenibile e spesso è un sintomo di un problema che può essere curabile Chiedi aiuto oggi Insomma L'abuso e l'abbandono dei minori possono avere effetti devastanti e duraturi su un bambino e possono avere ripercussioni negative sulla società, inclusi costi elevati per i servizi e un maggiore coinvolgimento nei sistemi di giustizia penale e minorile Tuttavia, le comunità possono agire per arginare gli effetti del maltrattamento e persino prevenirlo Gli servizi e i supporti basati sull'evidenza possono promuovere fattori protettivi che mitigano gli effetti del maltrattamento e fornire alle famiglie e alle comunità gli strumenti per fermare il maltrattamento prima che si verifichi Le agenzie di assistenza all'infanzia possono collaborare con le famiglie e le comunità per essere all'avanguardia Grazie 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 Grazie